se che fai a vettere lui, ci ci diamo no, 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 no bene, bene, no perché sono avuto l'icef mettiamo l'informazione addirittura ci facevi il llamatore e ci lascionti a me di gli impanazzi oh, lì di abbigliamento oh, lì di abbigliamento andiamo ma non è che cambia di moto 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 bravo bravo ma non è che cambia di moto 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 Orvi il trucco! Un minuto! Allora qui si prende la palla, si è! Non c'è nessuno! Non ti ho dato niente! Luca! Il figlio era veramente il paletto e venivano secondi. Sì! Brava mia mamma! Sì! No, il figlio era il paletto! Il paletto è il paletto! No, no! E come non è che sono bello! Chi è il tuo marito?